Formazione, apertura, dialogo. L'eredità della cinquantesima settimana sociale è ancora tutta da vivere e da scrivere. Cinque giorni di ascolto, confronto e dibattito sulle molteplici sfaccettature della democrazia partecipativa sono ora al bagaglio che gli oltre mille delegate e delegati di diocesi, associazioni e movimenti dovranno tradurre in processi di lungo periodo sui loro territori, a partire da alcune esperienze concrete. La prima, la cinquantesima settimana sociale è stata aperta. Non solo la parte formativa è di laboratorio per i delegati, ma anche le piazze della democrazia, gli stand delle buone pratiche in centro città che mostrano concretamente quello che il Papa ha incoraggiato a vivere celebrando l'Eucaristia a conclusione dei lavori, una fede inquieta perché incarnata. I delegati hanno dedicato il pomeriggio all'ascolto, al confronto, in una maniera, devo dire, molto qualificata, su tutto ciò che promana dalla dignità dell'uomo. Dalla curiosità iniziale, che non si sapeva che cos'era, si è passati invece al capire che c'è una chiesa viva, che c'è una chiesa che ha una sua proposta e vitalità anche riguardante la città, riguardante la vita concreta e reale delle persone, con i loro progetti e anche con le loro fragilità. La seconda, ascolto e dialogo, sono la radice di ogni processo. Formare chi segue, non chi guida, è stata una delle suggestioni più dense di risonanze negli oltre 50 gruppi di lavoro, insieme alla consapevolezza che il conflitto può essere generativo laddove non si incancrenisca in polarizzazioni. Il noi non è un'ideologia, ma è un processo che può anche ammalarsi, ma può anche guarire, può anche crescere e continuamente da reinventare. E allora questo vale sia per l'unità e la comunione come anche per il dialogo, quando invece ci sono anche le differenze e le alterità. La terza, Trieste ha aperto una fase nuova, che ora si traduce in processi creativi di partecipazione dal basso. A settembre il Comitato Scientifico offrirà la sintesi dei cerchi di confronto e da lì si ripartirà per una testimonianza di fede che, come lievito, si incarni, mescolandosi in ogni strato della società civile, istituzionale e associativa. Sarà un po' a noi riuscire a fare tesoro di tutto questo, evitando che poi sia in qualche modo, come purtroppo succede tante volte, qualcosa che si consuma. Inizia una nuova fase che parte da Trieste, che sarà completata nei prossimi mesi e che deve portare questa aria di partecipazione, questo impegno di partecipazione e di dialogo su tutti i territori.